Non volevo mai immaginare che in unici giorni non potessimo riuscire ad affrontare i figli con l'Avorecchio che sono in scala della palanota mondiale con un'annia promossa squadra della proletà che potessi arrivare a partire, cioè a battere, giocando una grande palanota con un grande viasmo di pubblico e grande partecipazione. Questo è un motivo bellissimo, eccezionale, grande orgoglio e questo ci dà modo di pensare che noi dobbiamo continuare su questa strada. Ovviamente io so quali sono i nostri obiettivi, queste partite sono molto belle, si vincono ma non dobbiamo perdere di vista la nostra realtà. Ci saranno momenti difficili, momenti complicati.